È nato nel 1960 e in 56 anni ha formato oltre 15.000 giovani con in tasca una qualifica che ha permesso loro, nella maggior parte dei casi, di inserirsi nel mondo del lavoro. Tubisti, saldatori, meccanici, parrucchieri ed estetisti, ma anche addetti alla ristorazione e programmatori informatici. È il mondo dei salesiani, è il centro di formazione voluto da Don Bosco al villaggio Aldisio. Una vera e propria eccellenza, fatta di professionalità e competenza. E adesso, con l'anno nuovo alle porte, ripartono i corsi triennali per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Un regalo di Natale tanto atteso. Ci sono ragazzi che hanno finito l'anno precedente, nel 2014, e nel 2017 riprenderanno la scuola. Questo è purtroppo uno dei fatti che esprime in maniera icastica, si potrebbe dire, qual è la realtà del funzionamento delle nostre istituzioni. Però nonostante questo, noi salesiani, proprio perché ci crediamo, soprattutto crediamo a quella che è la mission nostra salesiana, quella di essere educatori, di essere vicini ai ragazzi, di poterli accompagnare a che, come diceva Don Bosco, non siano onesti cittadini e buoni cristiani. Abbiamo cercato di tenere duro, abbiamo insistito. E finalmente speriamo che questo possa essere portato a compimento, almeno per questi ragazzi. E questo ce lo auguriamo anche per gli altri. Perché non possiamo partire a settembre un primo anno e per i secondi e terzi anni dobbiamo aspettare chissà che cosa. E' già il secondo anno che capita la stessa cosa. Si è partito nel 15, ai primi di settembre per il primo anno, secondi e terzi anni muti, stanno partendo adesso. Siamo partiti nel 2016 a settembre per i primi anni, secondi e terzi anni stanno partendo adesso. Ecco, io spero che questo non sia un andazzo ordinario nelle nostre istituzioni, ma che ci si sappia riprendere. Ecco, anche questo periodo che stiamo vivendo, il periodo del Natale. Certo, per i ragazzi è stata una lieta notizia, come quella del Natale, che finalmente riprendono la scuola. Però io spero che questa lieta notizia può essere vissuta nel clima natalizio e non nell'attesa di riprendere la scuola e che la scuola la possano riprendere ordinariamente. Il Cnosso Fapp accoglie tantissimi giovani togliendoli dalla strada, strappandoli alla malavita e al lavoro nero. Sì, è proprio questo il problema. C'è tanti ragazzi che in questi anni bichellonano. Che cosa fanno? E la preoccupazione prima dei genitori è la preoccupazione nostra. Invece dar loro l'opportunità, tramite un lavoro, di inserirsi già nel mondo del lavoro, evita questo pericolo per la società, per loro stessi, perché i ragazzi crescano bene, sia umanamente, come dicevo, come anche cristianamente, per le preoccupazioni nostre che abbiamo nell'educazione integrale, completa del ragazzo.